Stai zitto, non mi fai paura. Botte da Orbi a Quarta Repubblica, uno dei salotti più trash della TV generalista. Durante l'ultima puntata del programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, c'erano ospiti di tutto rilievo, Simone Cicalone, il famoso youtuber col pallino delle arti marziali che da tempo fa filmati alla ricerca di ladri e borseggiatori, Piero Sansonetti e Lorenzo Pacini, assessore del Comune di Roma. Ecco, durante uno scontro sulla necessità o meno di avere uno come Cicalone a difesa dei più deboli, si è inscenata una polemica senza fine. È in questo contesto che i toni si sono alzati aspramente, facendo persino credere al pubblico da casa che si sarebbe davvero vista una rissa da bar nello studio televisivo. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo e perché. Simone Cicalone è ospite e parla del suo lavoro. Per chi non lo sapesse il famoso youtuber è anche rinominato il giustiziare contro i borseggiatori in metro. Dopo le sue parole si sono sbilanciati non poco Sansonetti, direttore dell'unità, e Pacini, esponente del PD. Cicalone poi racconta di quanto è stato aggredito in metro, e ricoverato, mentre stava filando l'attività di alcuni ladri. Gli stessi l'hanno colpito forte, ma lui ha risposto pesantemente. Va premiato, è giornalismo, dice l'ex parlamentare Andrea Ruggeri. Pacini a questo punto non ci sta e dice, non è giornalismo. Non è previsto da nessun codice deontologico che un giornalista vada a fare il vigilante in metropolitana, in strada. Nel video abbiamo visto quelli che tu chiami giornalisti intimidire delle persone, che possono essere i peggiori criminali, ma comunque non è il loro lavoro. I Batman mancati non è quello di cui abbiamo bisogno. Ho visto persone aggredite ma nessun furto evitato. Cicalone allora tira fuori gli artigli, non c'è stato alcun pestaggio. Questa è mistificazione. Voi avete già sentenziato come foste la magistratura. Pacini allora dice, noi non siamo magistrati e non giudichiamo ma tu non sei uno sbirro. Cicalone tira fuori anche i denti, stai zitto, e Pacini lo redarguisce, minacci. Non mi fai paura. Poi Sansonetti chiude, viola la legge per la società. È proibito anche filmare le persone. Ogni volta tirate fuori la questione della legalità e poi la legalità se ne va a quel paese. Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.